Si parlerà di gestione dei rifiuti e soprattutto della problematica degli impianti di smaltimento nel corso della nuova puntata della trasmissione L'Ospite in onda oggi dopo il TG Review. Ospite della trasmissione è il presidente della SRR Vito Marsala. Dopo la buona notizia del finanziamento di 33 milioni di euro per la discarica di Contrada Salinella che peraltro riaprirà già questo mese per accogliere i sovvalli, il presidente Vito Marsala annuncia l'ampliamento del progetto che riguarda il centro di compostaggio di Contrada Santa Maria finalizzato alla realizzazione anche di un biodigestore. L'obiettivo è quello di ridurre considerevolmente gli attuali costi di conferimento negli altri impianti siciliani e tornare ad utilizzare pienamente quelli presenti nel territorio di Sciacca. Il centro di compostaggio ovviamente riceve tutto il materiale organico proveniente dai comuni soggi e in questo momento è un impianto che è obsoleto perché è vecchissimo, è stato pensato nel 2006-2007, se non lo ricordo male, adesso è con anche della tecnologia obsoleta. Quindi anche lì abbiamo un progetto esecutivo già presentato che sarà oggetto, spero, nelle prossime settimane di finanziamento così come concordato con il governo regionale perché non è più sufficiente, perché ricordiamo che in questo momento l'impianto di compostaggio ha una capacità di 14.000 tonnellate e oggi invece il nostro fabbisogno è almeno di 20.000-22.000 tonnellate. Quindi diciamo che è importante che ci sia questo finanziamento, l'ampliamento e anche un'innovazione tecnologica dell'impianto di compostaggio. Ma voglio anche aggiungere che abbiamo in CDA, ho avuto il mandato di poter predisporre un progetto preliminare per un biodigestore perché attraverso soltanto la chiusura del circolo all'impianto di compostaggio possiamo davvero ottimizzare i costi di conferimento perché questo ci consentirebbe non soltanto l'impianto di essere autosufficiente ma di poter abbassare i costi di conferimento di oggi impianti che hanno un biodigestore riescono a far conferire a 30.000 tonnellate. In questo momento invece questi costi non ci sono e quindi questo sarà oggetto di un confronto che avremo in prossimi giorni con l'assessore Di Mauro sul finanziamento di questo altro impianto. Questo progetto per il centro di compostaggio a quanto ammonta? Voi lo avete sollecitato il finanziamento? Noi lo abbiamo sollecitato. È un impianto, è un finanziamento, è un progetto che richiedeva in origine, se non ricordo, circa 6 milioni di euro. Oggi attraverso diversi aggiornamenti dei prezzi è lievitato circa 13 milioni di euro. Quindi in questo momento la richiesta che noi abbiamo già avanzato alla Regione è del totale finanziamento dell'impianto di compostaggio. A quello aggiungeremo e rassegneremo all'assessorato regionale anche l'ultimo step che è quello del biodigestore.